Aumenta il numero dei guariti, ma non diminuisce di tanto il numero dei positivi che si registrano quotidianamente in provincia. Sono 747 i guariti, però sono 500 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta, dei quali 133 proprio in città, nel capoluogo. E intanto si contano ancora dei cessi. Sono 6 i pazienti deceduti, 5 di niscemi e un paziente di gela. Si continua a parlare di ingressi negli ospedali che diminuiscono, 67 sono infatti ricoverati in malattie infettive, mentre 7 sono i ricoverati in terapia intensiva. Sono in tutto 5173 i positivi in quarantena domiciliare.